Si vedevano recapitare la bolletta della corrente elettrica da una società che nemmeno conoscevano. Così, in 65 casi, due dipendenti di un'agenzia, partner di un operatore nel settore dell'energia elettrica, avevano truffato altrettanti clienti. I due, pagati a percentuale in base ai contratti sottoscritti, avevano messo su un piccolo business che gli consentiva a fine mese di arrotondare lo stipendio. Confezionavano falsi contratti all'insaputa dei cittadini che prima ricevevano la comunicazione di interruzione della fornitura da parte del precedente gestore e poi le nuove bollette con una nuova tariffa, spesso più cara della precedente. Tutto questo senza aver mai stipulato un contratto. Così, alcuni cittadini si sono rivolti ai carabinieri della stazione di San Giovanni Valdarno che hanno individuato e denunciato i due dipendenti infedeli di una piccola agenzia del napoletano completamente estranea all'accaduto. I due, un italiano di 41 anni e un 21enne di origine marocchine, sono stati denunciati per truffa. Le indagini proseguono e gli inquirenti non escludono che il fenomeno possa riguardare una platea ben più ampia di cittadini truffati.